Alcoa questa mattina l'incontro con i sindaci del territorio. La mobilitazione ripartita è ora necessario portare l'avvertenza a Roma con le istituzioni locali. Sanità ha chiuso il servizio risonanza del CTO di Iglesias. Il Partito Democratico denuncia lo smantellamento dei servizi sanitari e chiede un cambio ai vertici della ASL7. Pescatori in arrivo gli indennizi ma l'associazione degli armatori chiede anche la valorizzazione dell'intero settore che nel Sulci sconta oltre mille addetti. Elezioni europee tappa nel Sulcis iglesiente per Renato Soro. L'ex presidente della regione questa sera di Iglesias e a Carbonia per la campagna elettorale in vista dell'appuntamento alle urne del 25 maggio prossimo. Ben ritrovati nel Tg di Canale 40. L'avvertenza al COA ancora in primo piano. I lavoratori che ormai da giorni presidiano il piazzale della fabbrica questa mattina hanno incontrato i sindaci del territorio. È necessario portare il caso al COA a Roma hanno detto i lavoratori e questo lo si deve fare anche con le istituzioni locali. Vediamo le interviste realizzate questa mattina nel presidio. Franco Porco, portavoce dei sindaci del Sulcis iglesiente, di nuovo con gli operai, di nuovo al fianco con gli operai per organizzare una grande manifestazione a Roma? Sì, per organizzare una grande manifestazione a Roma in accordo con i sindacati, forze sociali, forze sindacali, partite IVA, insomma tutte le fasce sociali del Sulcis iglesiente perché tutti quanti dobbiamo essere consapevoli che siamo arrivati a un punto limite. C'è una grande disperazione nel territorio, ormai stanno scadendo anche le casse integrazioni, quindi gli ammortizzatori sociali. Massimo Care, il RSU al COA, una nuova sfida ai sindaci del territorio? Assolutamente sì, non poteva essere diversamente. Abbiamo lanciato di nuovo questa sfida di una mobilitazione del territorio e portare i cittadini del Sulcis iglesiente a Roma, cosa era stata interrotta nel 2010 quando i ministri vennero qua nel Sulcis iglesiente, quindi lì c'era organizzata la manifestazione di popolo, noi la chiamiamo così, e fu interrotta, e fu sospesa, e fu rinviata, e fu non fatta, insomma, sotto un certo punto di vista. Quindi da qui che sta rinascendo, secondo noi, quello che potrebbe essere la battaglia per far ripartire questo territorio, non poteva mancare appunto l'invito ai sindaci, e non è solamente un invito ma è una sfida, perché gli abbiamo chiesto o siamo in grado di portare a Roma il territorio del Sulcis iglesiente oppure abbiamo fallito entrambi. Bruno Zaire, il RSU al COA, oggi un incontro importante con i sindaci del territorio? L'importante è se si fa il lavoro tutti insieme nel sollecitare la politica a trovare una soluzione, non c'è più tempo, abbiamo detto che giugno si avvicina, noi dobbiamo far sì che i nostri sindaci poi sollecitino i parlamentari di riferimento, i partiti di riferimento affinché si trovi con il governo la soluzione. Iglesias, il partito democratico, prende posizione sulle carenze della sanità iglesiente, no alla chiusura degli ospedali e allo smantellamento dei servizi sanitari. Il PD chiede la sostituzione del direttore generale della Asla 7, il servizio. Ancora critiche sulla sanità iglesiente. Operazioni di smantellamento dei servizi sanitari, piani di riduzione dei reparti che denotano il potenziamento di altre strutture in altri territori. A denunciare le carenze del servizio sanitario, messi in atto dal direttore della Asla 7, Maurizio Calamida, e il capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Iglesias, Francesco Melis. Il consigliere critica la decisione di chiudere il reparto di ortopedia del CTO. Non si può dire che il reparto chiude per scarsa produttività, quando invece non è stato messo in grado di lavorare per carenza di organico e per attrezzi della sala operatoria mai acquistati. Secondo quanto afferma il consigliere Melis, il collasso, che da anni si sta verificando nella sanità dell'iglesiente, ha una finalità, che è quella di potenziare le cliniche private caglieritane. Il capogruppo del PD precisa. Il manager ci dovrebbe spiegare perché interessarsi all'ortopedia di Iglesias e non dirci invece quale drammatica improduttività si nasconde dietro la stroke unit del Sirai che non produce altro che sprechi. E come mai invece l'hospice dell'ospedale Santa Barbara, finanziato con apposito progetto, è scomparso. Si parla di contenimento delle spese, continua Melis, ma il direttore generale ha inserito in azienda oltre 200 persone, tre interinali e a contratto a tempo determinato, stando ai bilanci 2012-2013. Sulla vicenda parla anche il deputato del PD Emanuele Cani. La regione deve intervenire immediatamente, sostituendo l'intero management e far sì che vengano ripristinati e garantiti i servizi necessari ai pazienti. Informiamo che questa mattina all'ospedale CTO di Iglesias è stato chiuso in seguito ad un controllo il servizio di risonanza perché l'edificio che ospita i macchinari non sarebbe a norma. Indennizi ai pescatori. Le somme del ministero sono già state accreditate ai comuni, lo ha annunciato il presidente della regione Francesco Pigliaru. L'associazione degli armatori Piccola Pesca sottolinea. Oltre agli indennizi attendiamo anche degli interventi specifici per il settore. Vediamo. Gli indennizi destinati agli operatori della Piccola Pesca relative al 2012 sono stati pagati integralmente da parte del ministero della difesa. Lo ha annunciato ieri il presidente della regione Francesco Pigliaru, sottolineando che le somme sono state accreditate sui conti correnti dei comuni, che a loro volta provvederanno a delogarli ai pescatori che ne hanno diritto. Si tratta di indennizi dovuti per l'interruzione dell'attività di pesca dovuta alle esercitazioni militari. E' un risultato importante, ha commentato il presidente, che è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione istituzionale tra Regione Sardegna e Ministero della Difesa. Il pagamento degli indennizi è solo una parte di ciò che il settore della pesca chiede da anni, ha detto Enrico Marangoni, presidente di Armatori Piccola Pesca. Bisogna rivedere il protocollo d'intesa per stabilire i requisiti che deve avere un pescatore per ottenere gli indennizi, puntualizza Marangoni. Negli ultimi tre anni, dice, i pescatori si sono triplicati. Non basta avere una barca per fare il pescatore. Inoltre bisogna rivedere le normative europee, che pongono molti vincoli per l'attività in genere. E poi il settore, che nel suo Cisiclesente conta 400 imbarcazioni e oltre 1000 addetti, necessita anche di infrastrutture adeguate, come un porto pescherecio a Sant'Antioco, dove si trova la marineria più numerosa e dove c'è l'esigenza di valorizzare al meglio il prodotto locale, sia per la lavorazione che per la commercializzazione. Per queste richieste il settore della piccola pesca chiede l'attenzione delle istituzioni. Passiamo adesso alla cronaca in questo breve servizio realizzato da Francesca Rius. Ieri notte a Masaina Signoti hanno dato alle fiamme il portone in legno dell'abitazione di una casalinga 52enne del posto. L'incendio, domato dagli stessi proprietari della casa, ha danneggiato lievemente la porta d'ingresso. Al momento non si conosce il movente di questo atto e le indagini, tuttora in corso, sono condotte dai carabinieri della stazione di Giba. A Nugis, invece, i carabinieri della stazione locale, a conclusione delle indagini, hanno denunciato a piede libero per furto un pensionato del paese. L'uomo, nel periodo tra il primo e il 12 maggio, nelle campagne di Nugis, ha messo a segno diversi furti di ortaggi nei terreni di proprietà di una pensionata, che ha denunciato l'accaduto. Dopo aver sentito alcuni testimoni militari, hanno pertanto denunciato l'uomo. Il danno risulta di lieve entità, ma la proprietaria ha comunque voluto denunciare i furti, perché, ha dichiarato in seguito ai carabinieri, bastava chiedere senza rubare. Il Consiglio Comunale di Iglesias si riunirà in seduta straordinaria e urgente domani alle 16.30, nell'Aula Consigliari di Piazza Municipio, per affrontare dieci punti inseriti all'ordine del giorno. Si inizierà con le interrogazioni sullo stato dei lavori dei giardini pubblici, lo smantellamento della farmacia dell'ospedale Santa Barbara e la chiusura per ferie del CTO. Tra i vari punti, inoltre, si discuterà dell'imposta unica comunale e della modifica del calendario del ritiro dei rifiuti. Il gruppo Calazetta, che vorrei, nel voler informare e rendere partecipe la popolazione sulle linee programmatiche delle liste candidate alle prossime elezioni amministrative, organizza un incontro dibattito tra i candidati alla carica di sindaco Antonio Vigo e Gianluca Boi, mediato dal giornalista Giampaolo Cironi. Si in programma sabato 17 maggio alle 18 presso il centro velico di Calazetta. È possibile inviare all'indirizzo mail calazettachevorrei-gmail.com Alcune domande da porre ai candidati, le quali verranno valutate dal giornalista e proposte in forma anonima ai candidati durante il dibattito. Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 25 maggio prossimo. Tapa sul citane in serata per Renato Soru, che alle 18 sarà in piazza Picchi ad Iglesias con i parlamentari del PD Francesco Sanna ed Emanuele Cani e il consigliere regionale Pietro Cocco. Dopo aver fatto visita ai lavoratori al COA nei giorni scorsi, l'ex presidente della regione torna dunque nel sul Cisiglesiente, facendo tappa anche a Carbonia, dove alle 20 Soru interverrà per l'inaugurazione del gazebo PD Europa Days in via Fosse Ardiattina. L'amministrazione comunale di Carbonia informa che sono state indette delle selezioni pubbliche per titoli e colloqui finalizzate alla formazione di una graduatoria, dalla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale e della durata minima di sei mesi. La prima è rivolta al profilo professionale di istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1, nell'ambito della realizzazione del PLUS, distretto socio-sanitario di Carbonia. La seconda è rivolta al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, posizione economica D1, nell'ambito della realizzazione PLUS, sempre distretto socio-sanitario di Carbonia. I bandi e la documentazione sono consultabili nel sito del comune nella sezione bandi e concorsi. Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 29 maggio. Rimarrà aperta fino a domenica 18 maggio, presso la saletta del Portico adiacente il teatro centrale, la personale di pittura dell'artista Alfredo Mussetti, in arte de Musetti. Il 17 e il 18 maggio l'esposizione sarà visitabile durante la manifestazione monumenti aperti negli orari, sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Alfredo Mussetti, bergamasco di nascita, massardo di adozione, ha partecipato a numerose mostre estemporane nella terra d'origine. La mostra rientra nella più ampia rassegna 12 per 12, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Carbonia e prevede l'allestimento di 12 mostre personali di altrettanti artisti cittadini. L'associazione Amici della Vita ha organizzato per domenica 18 maggio ad Iglesias il trekking della sobrietà a Marganai. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 10 a Mamenga nella frazione di San Benedetto. Si tratta di un percorso di 5 chilometri. La comitiva raggiungerà le case Marganai a mezzogiorno e poi prevista la visita al giardino botanico. Alle 13 e 30 ci sarà il pranzo organizzato dalla cooperativa San Lorenzo. Il trekking è gratuito e ognuno partecipa sotto la propria responsabilità. L'associazione culturale Sischilia, con il patrocinio del Centro Servizi Culturali di Carbonia, Iglesias della Società Umanitaria e con la partecipazione del reparto di psichiatria dell'ospedale Sirai di Carbonia, diretto dal primario dottor Nino Ladomada, nel contesto della manifestazione Monumenti Aperti, domenica 18 maggio, presenta il concerto di chitarra classica degli allievi del maestro Davide Mocci, direttore artistico dell'associazione Sischilia. Il concerto avrà l'uovo alle 17 nella hall dell'ospedale Sirai. Per tutto il giorno all'interno del reparto di psichiatria sarà inoltre possibile visitare una mostra di pittura e poesia con opere realizzate dai pazienti. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle informazioni di meteo. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno. Il vento soffrirà dal nord a nord ovest con intensità di 18 km orari, possibili raffiche fino a 25 km orari, temperature minime comprese 3,7 e 12 gradi e massime comprese 3,19 e 23 gradi.